Montebuono è un piccolo borgo medievale che si trova sulle colline sabine a 325 metri di altezza, sul livello del mare, a 65 chilometri da Roma e a 41 da Rieti. La visita del centro storico di Montebuono parte dal belvedere esterno che lascia incantati, di fronte all'immensità dei panorami che si possono ammirare. A testimoniare l'antica storia di questo territorio sono due ville rustiche di origine romana. Da non perdere nella visita a Montebuono è la già citata chiesa di San Pietro, denominata Ad muricentum vo Ad centum murum per la presenza di numerosi resti romani che la caratterizzano e la delimitano. Se poi si vuole godere di una completa vista del borgo si può raggiungere il santuario dedicato a San Benedetto, che si trova in cima all'omonima montagna, che si erge a protezione di Montebuono.